Ciao, in questo tutorial andiamo a vedere insieme come registrarci al portale Nital.it e registrare un prodotto o un obiettivo per avere i 4 anni di garanzia Nital. Ricordiamo che per avere questa garanzia è necessario registrarsi entro e non oltre 7 giorni dall'acquisto. Adesso andiamo a vedere insieme come si fa. Bene, per prima cosa iniziamo aprendo il sito di Nital.it Una volta dentro andiamo sul tasto registrati in alto e successivamente su monotendina registrazione utente. Una volta in questa pagina possiamo decidere di iscriverci usando direttamente Facebook o l'account nostro di Google oppure mettendo come sempre i dati manualmente. In questo caso faremo proprio così. Quindi mettiamo una username una password e ci chiede se vogliamo di più del nostro account. In questo caso completeremo subito la registrazione così che poi faremo vedere anche come registrare un prodotto. Mentre se completeremo in seguito ci chiederà successivamente altri dati nostri. Quindi completiamo la registrazione. Possiamo scegliere tra privato o azienda. In questo caso registriamo un privato. Mettiamo tutte le anagrafiche, quindi nome e cognome. Per il codice fiscale possiamo cliccare su calcolo. Ci chiederà due informazioni come provincia di nascita e comune di nascita e ci calcolerà automaticamente il codice fiscale. Accettiamo il trattamento dei dati e registriamoci. Qua ci dice perché in questo caso non abbiamo consentito la trasmissione delle newsletter. Registrazione completata con successo. Bene, adesso possiamo andare a vedere come registrare come registrare un prodotto. Torniamo sulla schermata principale. Andiamo sempre su registrati e poi registra un prodotto. Qua abbiamo tutti i marchi che Nital e quindi Nital si occupa. In questo caso andiamo su Nipa. Mettiamo l'ID del prodotto che si trova sulla scatola. Mettiamo il nostro codice fiscale. E siamo un'azienda. Mettiamo i dati e i dati venditori che dà un prezzo a questo prodotto. I dati dello scontrino quindi la data che abbiamo acquistato con la macchina e l'importo e il numero dello scontrino. Oltre a questi dati proviamo anche a legare una foto del nostro scontrino che perde i loro contori. Accettiamo il trattamento di personale e registriamo il nostro prodotto. Il nostro prodotto è registrato con successo. Vediamo su Visualizzo i prodotti e vediamo che in questo caso la nostra DG500 è registrata con successo. Abbiamo i nostri 4 anni di garanzia ufficiale Nital e abbiamo anche la scadenza di questi 4 anni. Qua abbiamo il nostro profilo e cosa non meno importante sono questi 5 vantaggi che la nostra registrazione ci porterà. Quindi un live chat una garanzia che ci ha nei suoi prodotti dei contenuti apposta per noi registrati e altre cose che possono essere davvero utili. Bene, per questo tutorial è tutto. Al prossimo! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!